Supermotard numero 31, gambetti, la sestimolese, nota totale, attenzione perché dopo parecchia strada guidare le Supermotard è tutta un'altra cosa, questa parte molto di fraseggio, di fraseggio, curva tagliata, penalità, madonna, di queste cose guarda, ci prendo la mano dopo un attimo, però siete dei rotti nel culo, quante zatte di curve ci sono, questa è una pista da go-kart, una pista da veri mongoli per sapere, siamo già andati il primo giro, cattivissimo ragambello, cattivissimo qua, perché lui poi deve anche recuperare dalla penalità, quindi deve vincere con almeno un secondo di scarto, e ora va, e ora va, il maestro, il sestimolese, quante volte, lungo il fiume, in campagna, quante volte si è lanciato con la sua moto da cross, maestro, anche il padre, grande maestro, qualche incidente per lui, ricordiamoci che si vince questa gara a diritto al premio, alla moto, alla moto premio, qualche imprecisione, gambetti velocissimo, vuola mattia, Samuele impegnato quest'anno in moto 2, lo guarda, guarda suo padre, con grande, con grande stima, insieme al presidente della Cavara Racing, Paolo Cavare, per l'occasione, non ha i denti, grandissimo, grandissimo, mattia, è un po' piantato qui, a Magucci dietro, ha tantissimo da recuperare, con una pista che fa venire al vomito, dal vecchio, ultimo e curdo, per lui, le pennella bene, che maestro, che maestro, che maestro assoluto, regalavano una moto al primo, e andiamo, andiamo a prenderci questa moto, mattia, no, mattia, no, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, il maestro, il maestro, impennando, lancia la moto oltre all'ostacolo, maestro totale, grande, grande, grandissimo, adesso andiamo, a selezionare, questo, regalino, da scartare, questa, motoretta, che ci viene donata, Raid 2, grande gioco, gioco ignorante, siamo tornati, siamo tornati sul web, con queste dirette, che moto, che moto prendiamo, prendiamo, apparentemente per me sono uguali, però, R6, R6, che differenza, forse la, questa, non mi piace meno, questa è più cattiva, sei sicuro? Sì, sono sicuro, sognare, dai, 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 Raid 2, gran gioco, questo qua, l'epopea, di Gambetti Mattia, da Sestimolese, maestro, totale, assurdo, grazie a tutti,